Salve a tutti amici di Team17 Usita. Il mio nome è Matteo Bini e vi do il benvenuto alla ventunesima puntata del mio vlog dedicato alla Team17 Digital Limited, la software house britannica che mi piace molto e di cui parlo sempre in italiano in questo canale che ho dedicato proprio a lei. In questa puntata tratterò dei DLC, anzi dei 3 DLC rilasciati per Worms Ultimate Mayhem. Essi erano stati rilasciati molto tempo fa per PS3 e Xbox 360, ma soltanto da poco tempo, circa un paio di mesi, sono stati resi disponibili anche su PC. Quindi ho colto l'occasione per fare un video dato che io gioco per PC e parlarne soltanto adesso. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo ogni singolo DLC punto per punto. Il primo DLC è il Worms Ultimate Mayhem Single Player Pack. Questo contenuto scaricabile è interamente incentrato sul giocatore singolo, come si può facilmente intuire dal nome. Avremo delle nuove sfide, dei nuovi achievements ed una sola mappa multiplayer. Vediamo nel dettaglio quali sono le sfide che sono state aggiunte. Avremo una nuova gara cecchino, una nuova gara jetpack, una nuova gara super pecora, una nuova gara di fucile, una nuova gara di precisione, una nuova gara di navigazione, una nuova gara di raccolta casse, una nuova gara deathmatch. La mappa multiplayer disponibile si chiama Tutti i sistemi o no? Il costo di questi DLC è uguale per tutti, ma per chiarezza lo ripeterò alla fine di ogni breve analisi di questi contenuti scaricabili. Per quanto riguarda gli utenti PlayStation 3 dovranno sborsare 3,99€, invece gli utenti PC dovranno pagare 2,99€ ed infine coloro che acquisteranno questo gioco su Xbox 360 lo pagheranno 400 Microsoft Points. Il secondo DLC è il Worms Ultimate Mayhem Multiplayer Pack e contrariamente al primo è interamente incentrato sul multigiocatore. Vi saranno delle nuove mappe e dei nuovi achievements. Vediamo i nomi delle nuove mappe. Avremo una nuova mappa multiplayer Cantiere Inferno Violento, una nuova mappa multiplayer Camelot, giorni duri per un cavaliere, una nuova mappa multiplayer Selvaggio West, fine della linea, una nuova mappa multiplayer Arabia, 1001 battaglie, e una nuova mappa multiplayer preistoria Il Tiranno Ci Avvisti. Questo DLC costerà 2,99€ per gli utenti PC, 3,99€ per gli utenti PlayStation 3 e 400 Microsoft Points per gli utenti Xbox 360. Ed infine eccoci arrivati all'ultimo contenuto scaricabile per questo gioco. Si tratta del Worms Ultimate Mayhem Customization Pack. Vediamo nel dettaglio che cos'è contenuto all'interno di esso. Vi saranno 10 nuovi accessori tra cappelli e occhiali, vi saranno 4 nuovi guanti, 5 nuovi set di suoni e 5 nuove carichi bombe per la fabbrica armi. Anche questo DLC costerà 2,99€ per gli utenti Steam, mentre 3,99€ per gli utenti PlayStation Network e 400 Microsoft Points per gli utenti Xbox Live Marketplace. Detto questo guardiamo qualche screenshot promozionale di questi contenuti scaricabili per poi passare alla conclusione. Ed anche questa puntata è giunta alla sua conclusione. Vi ringrazio per avermi seguito finora e vi invito a commentare il video, aggiungerlo ai preferiti, condividerlo, iscrivervi al canale, insomma ormai dovreste averlo imparato. Da Matteo Bini per Team17 Newsita è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Grazie per la visione!